La Procura regionale della Corte dei Conti per la campagna al termine degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza di Salerno ha riscontrato irregolarità nell'assegnazione di incarichi a Picali e all'Asala di Salerno conferiti con selezioni interne in luogo dei prescritti avvisi di evidenza pubblica. Tali procedure sono venute a seguito di formale atto aziendale emanato dall'ente che dando corso alla definitiva suppressione delle precedenti e articolazioni funzionali ed organizzative ha inglobato in un'unica struttura amministrativa le aziende sanitarie di Nocera Inferiore, Salerno e Vallo della Lucania. Le indagini del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Salerno sono state incentrate sull'attribuzione delle posizioni dirigenziali avvenuta in maniera ritenuta illegittima in quanto effettuata in violazione delle leggi vigenti in materia e sulle conseguenti ricadute economiche pregiudizievoli per l'azienda sanitaria di riferimento. Infatti, per effetto della situazione verificatasi, i soggetti interessati hanno potuto occupare posizioni a Picali in carenza di procedure selettive aperte, percependo anche plurime indennità economiche talvolta incompatibili fra di loro. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare che, alla luce della rilevata cattiva gestione delle risorse umane ed economiche, i vertici protempore dell'Asala Salernitana avrebbero cagionato un rilevante danno patrimoniale al Servizio Sanitario Nazionale quantificabile quasi in due milioni di euro. All'esito dell'attività investigativa svolta, la Procura Contabile ha individuato quali responsabili dieci dirigenti con funzioni di commissari amministrativi, direttori generali e amministrativi protempore, nei cui confronti sono stati notificati atti di formale contestazione delle rispettive responsabilità, a seguito dei quali gli interessati potranno presentare le proprie contradduzioni per una valutazione complessiva della vicenda a conclusione della fase istruttoria.